Un tavolo permanente con sindaci e presidi e la richiesta di deroghe per le classi di montagna sono le proposte del Partito Democratico per rilanciare la scuola in Alta Valseriana. Annunciate dal coordinatore di zona Jacopo Scandella al termine dell'incontro promosso dal Circolo di Clusone dovrebbero presto approdare sul tavolo delle amministrazioni locali. L'obiettivo è far sì che la politica torni a giocare un ruolo di primo piano nelle scelte che riguardano la scuola soprattutto alla luce di quanto è insegnato la vicenda dell'Istituto Pacati che dal prossimo anno scolastico sarà accorpato al Fantoni. Un epilogo che secondo Corrado Barachetti, segretario regionale della FLC-CGL, poteva essere evitato. Una nota di Regione Lombardia chiedeva entro il 15 novembre del 2011 di poter avanzare proposte diciamo così di ordine transitorio e quindi per vedere un'operazione di ordine pluriannale per ripensare questa scuola. Evidentemente le amministrazioni comunali in loco hanno deciso diversamente, hanno deciso di non intervenire in questo verso consegnando la storia e il futuro di questo istituto secondo me a mano sbagliata. Ma io credo che in Valseriana così come in Valsabbia e così come nelle altre realtà montane e valtellina si sta consumando in modo assolutamente sbagliato l'idea che ci possa essere una scuola pubblica a difendere sono in situazioni laddove c'è una resa legata al profitto, all'immediato. Cioè si sceglie di non promuovere la persona in quanto tale laddove è. Questo è un errore politico di fondo ma è fondamentalmente un grave errore culturale e anche etico. Serve un'attenzione particolare per la montagna anche a livello di norme? Assolutamente sì con deroghe perché è evidente che per ragioni orografiche di viabilità e quant'altro non possono essere trattate alla stegola del centro di Milano o di qualche interna delle province del capoluogo Bergamo, Brescia o altro ancora. Al tavolo dei relatori c'erano anche Ivo Lizzola, preside della facoltà di scienze e della formazione dell'Università di Bergamo e Mario Tanza, ex assessore all'istruzione del comune di Clusone, già insegnante al Pacati. Il suo è stato un intervento appassionato in certi passaggi, vero e proprio atto d'accusa nei confronti della politica locale. Nel 2004 il Pacati era una scuola di quasi 600 studenti, una scuola che funzionava. Adesso si appresta a chiudere o quantomeno verrà accorpato sotto la presidenza dell'Istituto Fantoni. Cos'è successo? Cosa sia successo? Diventa un po' difficile individuarlo, anche perché le colpe evidentemente non possono essere carichette addosso solo a qualcuno. Sono una serie di cause che sono intervenute per cui cause interne, senza altro può essere la qualità dell'insegnamento all'interno del pacato, cause esterne magari una politica più aggressiva da parte degli altri istituti. Ma è certo che uno dei punti fondamentali che ha causato questa debacle è anche lo scarso interessamento da parte delle amministrazioni locali, le quali non hanno capito che con la riforma scolastica, con l'introduzione dell'autonomia scolastica il rapporto ente locale e struttura scolastica è fondamentale. Non è solo questione di dare contributi, è questione proprio di studiare assieme qual è la funzione della scuola sul territorio. Questo purtroppo qui non è stato fatto.